E bentornati, in diretta da Elketh, Tunisia, da qualche parte verso il nord o oveste. Credevate di averci perso? Invece noi siamo qua ancora vivi. Dunque, esperienza stramba, finalmente vediamo la realtà di paese. Non perché arrivando in albergo la visuale che avevo io sembrava quella del, per chi la conoscesse, quartiere Sette Farina e Gela. Perché non lo conoscesse, la versione brutta probabilmente di Cinesi, Cinesi in confronto. Ma, se avrete un giorno strano, venerdì. Venerdì, tutto chiuso. Bar chiusi, ristoranti chiusi, un cazzo di niente. L'unica cosa che abbiamo visto, bella cosa per carità, stanno rifacendo un teatro dopo 25 anni che era chiuso. Molto molto grazioso. Abbandonato totalmente. Oggi, invece, sabato, come per magia, i bar si riaprono, ma soprattutto si ripopolano di esseri incredibili. Ci siamo andati a mangiare una stronzata, siamo entrati là dentro. Gabriele, chiaramente, era il più guardato di tutto il locale, indovinato per quale motivo. Con Cuscione diceva, vabbè, ci compriamo due birre, ce le portiamo in albergo. Guardiamo dalla finestra del bar, guardiamo dalla finestra del bar, dico, Gabriele, meglio che entro solo lì, perché se ci ha separato, è finito. Se entrava pure lui, o se lo portavano in trionfo, noi ci dovevano avere tutti i millim, i denarri, metterli sul bacchetto, e finiva come doveva finire. Ma è stato meglio così, sono entrato io, e io resto fuori. Là dentro, un girone dantesco, bestiale. Bestiale. Gente totalmente persa, perché il privare, probabilmente, una semplice birra può generare questo. Gente tipo lo sguardo personale avuto e cantava a squarciacola, bordere, proprio, un bono, un picciotto. Un festone, un festone. Ma un festone è disordinato, perché ognuno faceva la sua propria festa dentro il coso. Ieri un locale lo ha ribattezzato un raduno di australopitechi. Un ragazzo simpaticissimo, slim, lo ha ribattezzato un raduno di australopitechi. Il personaggio migliore, però, lo becca fuori. Gabriele. Venge mi scendente, e io mi chiedo, ma che sta succedendo, non facciamo che forse è meglio che entri. Esce quell'uomo che mi dà l'idea che forse è meglio che io entri. Perché esce barcollando, cercandosi spasmodicamente l'attributo. Perché sembrava quello lì per farselo addosso. E così è, apre appena la porta nel bar, se lo tira fuori e lo falla davanti a tutti. In realtà, io ho elaborato un'altra teoria. Che probabilmente si è preso il lembo della camicia e si è risciato pure di sopra. Comunque ragazzi, la scelta è veramente incredibile. Domani torniamo a Tunisi e vedremo che dobbiamo ammirare. Tanti saluti. Buon, buon, buon.